Non è semplice venire qua a dire qualcosa, perché in questo momento ci farebbe meglio stare zitti e andare a casa e riprendere in settimana l'allenamento. Faccio fatica anch'io a dire qualcosa. Purtroppo abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo e dopo la partita è stata difficile. Sapevamo che venivamo qua a fare una partita difficile. Sarebbe facile dire adesso, sicuramente verrà fuori che la squadra ha sottovalutato la Cavese. Non è assolutamente così. Noi siamo venuti qua per fare la partita che dovevamo fare sapendo che sarebbe stata una partita difficile e che loro avrebbero messo tutto quello che potevano avere per darsi una speranza. Quindi non è stato quello il problema. Purtroppo in queste partite devi essere bravo a portarti l'equiso da tuo favore. Loro sono stati più bravi di noi e poi è stata dura. Ci abbiamo provato a riprendere la partita, però sappiamo che queste partite se si mettono così noi facciamo fatica, quindi non dovevamo assolutamente farla mettere così la partita. Poi ci abbiamo provato nel casino, provare a fare qualcosa onestamente. Nel secondo tempo qualcosa abbiamo fatto di meglio. però che vi devo dire, siamo dispiaciuti anche noi. Non so cosa... Andiamo avanti, cerchiamo di essere... Sarebbe facile buttare tutto all'aria adesso, ma dobbiamo essere bravi a ripartire ancora. Purtroppo è un'altra botta, però dobbiamo essere forti e andare avanti perché non è finita niente assolutamente. Dobbiamo essere forti, ricominciamo. Purtroppo pensavamo di aver fatto uno step e non l'abbiamo fatto, siamo dovuti tornare indietro. Lavoriamo e cerchiamo... So che diciamo sempre le stesse cose, cerchiamo di fare esperienza, cerchiamo di fare... Sì, però non so che... Cioè, è difficile anche dirvi qualcosa. Dobbiamo prenderci sta mazzata, portarcela a casa e ricominciare in settimana sapendo che per noi non è finito niente, che ci siamo creati noi la possibilità di poter guardare ancora cose importanti per questo campionato, però le parole in questo momento le portavi al vento. boardo angetato, guardarei a spettare un poeta, Grazie.